Da molti e da sempre la zona dei passeggi, il piccolo polmone verde a due passi dal centro di Fano, è universalmente riconosciuto come uno dei posti più piacevoli dove passare del tempo in città. Panchine, giochi per i più piccoli, ampie zone d'ombra e ora da poco anche un piacevole punto ristoro per grandi e piccini ed anche un ponticello in legno che attraversa un corso d'acqua conosciuto come Canale Albani. Già, il Canale Albani. I passeggi sarebbero un piccolo paradiso se non fosse che il suddetto Canale Albani che lo attraversa rappresenta la maggior fonte di guai di questo piccolo Eden. Ultimamente, proprio dalle acque del canale, sono giunte le immagini e le segnalazioni dei nostri telespettatori circa lo sbarramento di cannicci che si è formato a ridosso del Ponte Rosso. Spettacolo poco edificante e fonte di sporcizia e degrado. Se poi mettiamo insieme anche la presenza di bestiole dalle dimensioni ragguardevoli e la presenza di strane sostanze galleggianti, abbiamo una bella patata bollente per il Comune che non ha la proprietà del canale e che quindi è limitato nei suoi interventi. Noi abbiamo raccolto le segnalazioni che in questi giorni ci sono state da diversi cittadini. Io stesso ho fatto personalmente un sopralluogo e abbiamo scritto con una richiesta formale, quindi è nel Green Power, sollecitando un intervento non solo per la rimozione di quelle ramaglie ma anche di prevedere tempestivamente quelli che devono essere in quell'area gli interventi parallelamente di deratizzazione e di disinfestazione per la zanzara trigre. Sostanze galleggianti schiumose dovute a tensoattivi di dubbia provenienza o semplici fioriture dovute alle sedimentazioni presenti sul canale che il brusco innalzamento delle temperature delle scorse settimane ha innescato come processo. Il risponso su quanto vedemmo galleggiare proprio sul canale e poi concentrarsi proprio contro la barriera naturale è atteso a giorni ma dai primi riscontri sembrerebbe proprio che la natura ed il clima abbiano giocato un ruolo determinante su questo episodio.